Un orafu arettino di 30 anni è stato arrestato nell'ambito dell'operazione Tulipano condotta dalla squadra mobile di Arezzo, che ha portato nei mesi scorsi a scoprire e bloccare un grosso traffico di sostanze stupefacenti dall'Olanda e dal Belgio e ad arrestare sei persone, tra cui un notissimo trafficante sessantenne di Amsterdam. Secondo gli elementi raccolti dalla polizia, l'orafu arettino, condotto in carcere a Sollicciano, gestiva il traffico da molto tempo. Il fornitore, l'olandese arrestato alla stazione Termini lo scorso febbraio, portava la droga in una valigetta e la consegnava al pusher. Ogni scambio permetteva di portare ad Arezzo circa 15 chili di hashish e marijuana, a fronte di circa 50 mila euro per consegna. A tutti gli arrestati è stata contestata l'ipotesi di traffico internazionale di sostanze stupefacenti.